Il bello della diretta, scusate, allora, Paese delle favole, è dedicata al nostro amico l'Avvocato, l'Avvocato insieme a me ha iniziato questa bella storia che dura ormai da otto anni e per te e per Sandro Simone insieme l'abbiamo iniziato, Avvocato alza la mano Michel Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale, Mungino manda Wendy a parte del sul virale e l'isola incantata è già stata lottizzata e la lice e le bottiglie, c'è tra le sue e per amici. Papelino sta in t'atena, è la cora di grandena, Papelina con passione e penne, baci a Papelino, Gerone, qui con qua sono andati via, ma non ha rischio dell'autonomia e voi delle quali ne avete già discusso, ma che serve poi menarla con la storia dell'inclusso? Gli stivali delle sette leghe pagano bolle assicurazioni, le scopre delle streghe e la matur della aviazione, con l'incino e la cia, di manparla micro spia, e voi delle quali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia dell'inclusso? Non pisciotte, non è contento, ma lavora in un molino a vento, ma i babai, i quaranta ladroni, hanno già vinto le elezioni, anzi a me crede l'hanno fondato, una fabbrica di cioccolato, e alice nelle bottiglie, cercano le sue meraviglie. Cenerentola ha una giagua e un vestito molto fine, ogni volta che c'è un principe leva a scape e mutanile, la matrigna ne chiampia, prende i soldi e mette via. E voi, intellettuali, non avete mai discusso di come torna l'onda alla fine dell'inclusso? Ehi! 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 Grazie a tutti.